Risale leggermente il numero degli attuali positivi al covid in provincia di Agrigento, conseguenza di un numero limitato di persone che sono guarite nelle ultime 24 ore. Sono stati 20 nuovi casi riscontrati ieri su 208 tamponi processati, 7 i guariti e un nuovo ricovero, questa volta in area medica, dove adesso i posti letto occupati sono 4, mentre in terapia intensiva c'è un paziente in meno rispetto al giorno precedente e i ricoverati sono 3. In totale sono 250 gli agrigentini positivi al covid, 13 in più rispetto a martedì, di questi 7 sono in ospedale e 243 in isolamento domiciliare. A Sciacca la situazione dei contagi è rimasta invariata, sono 33 gli attuali positivi al covid, 8 a Ribera, un caso in meno a Sambuca di Sicilia, dove adesso c'è un solo positivo, un caso anche a Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina e Siculiana. 14 casi a Villa Franca Sicula, tutti riconducibili al focolaio scoppiato all'interno dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Burgio. Si tratta di 11 bambini e 3 adulti, familiari di bambini contagiati. Oggi pomeriggio lo screening sulla popolazione scolastica per avere un quadro più chiaro della situazione. 13 casi ad Agrigento, 2 a Burgio, 23 a Canicattì, 10 a Cattolica Eraclea, cioè 3 in più rispetto al giorno prima. Negli ultimi due giorni a Cattolica ci sono stati 6 nuovi casi e la situazione è tornata dunque a farsi preoccupante, al punto che ieri pomeriggio il sindaco, Santo Borsellino, ha lanciato un appello alla prudenza alla popolazione. 5 i casi a Favara, 16 a Licata, 43 a Palma di Montechiaro che resta il comune Agrigentino con il maggior numero di casi, 14 a Portempedocle, diventa Covid-free il comune di Racalmuto che ha azzerato i contagi, 15 casi a Raffadali, 1 a Ravanusa.